Congelata l'ordinanza comunale di Bacoli sul divieto di Varo e Alaggio, secondo il TAR Campagna è stata una decisione sproporzionata. A gennaio il sindaco Giosi della Ragione decise di emanare un'ordinanza che impedisse il transito di Natanti poiché è causa della congestione del traffico. Questa delibera però ha scatenato lo scontento di ditte che si occupano dei trasporti, tanto da presentare un ricorso. L'istanza è stata accolta e il TAR ha infatti definito il divieto eccessivo rispetto alle finalità perseguite. L'obiettivo di Della Ragione era di salvaguardare le vie di fuga come via Montegrillo, punta Epitaffio, via Terme Romane e via Lucullo a seguito della recrudescenza del fenomeno bradisismico. Il sindaco affermò che il Varo e l'Alaggio delle Barche potrebbe avvenire in qualsiasi altro luogo della Campania e che le Barche possono arrivare negli ormeggi presenti a Bacoli via mare come per le isole. Aggiunse che il porto di Baia era l'unico della regione in cui il Varo e l'Alaggio di Natanti di ogni dimensione era consentito gratuitamente arrivando anche a 10.000 passaggi di trasporti eccezionali. Tuttavia non è mai stata trovata una reale alternativa e quattro ditte di trasporti hanno deciso di fare ricorso, ottenendo oggi la sospensione dell'ordinanza, mentre la prima udienza è stata fissata per il 23 luglio 2024. Giosi Della Ragione dichiarò inoltre a gennaio che il provvedimento era stato adottato anche per tutelare alcuni cittadini che lamentavano preoccupanti vibrazioni nelle abitazioni durante le operazioni delle barche. Grazie. 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 Grazie.